ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo Michele benvenuto e benvenuta e complimenti per esserti registrata per guardare questo training in questo video ti mostrerò qualcosa di veramente potente che ha cambiato completamente la mia vita e sta cambiando la vita ad altre persone scopri i quattro segreti sconosciuti al 97 per cento dei facilitatori del riequilibrio energetico per connetterti con le frequenze di luce più elevate facilitando così nei tuoi clienti vere e proprie trasformazioni in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale attraverso la protezione dell'arcangelo Michele e senza assorbire i pesi degli altri prima di parlarti della singola cosa più importante vorrei chiedervi gentilmente di eliminare ogni distrazione per ricevere il massimo da questa presentazione la singola cosa più importante è che si tratta di un nuovo livello vibratorio a cui tutti possono accedere facilmente che può portare equilibrio in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale vorrei parlarvi di diletta ad olivo una mia studentessa che ha avuto dei risultati straordinari con i propri cari e i propri clienti lei ha ricevuto la chiamata della parte dell'arcangelo Michele si è sentita chiamata proprio perché cercava uno strumento di riequilibrio energetico potente ma che allo stesso tempo fosse protetto pensate che ha avvertito fin dall'inizio un forte potenziamento delle energie sentendosi radicata la terra e protetta al 100 per cento imparando tutto sulla protezione psichica con l'arcangelo Michele vorrei anche parlarvi di me a soli tre mesi dal mio primo seminario ho facilitato il riequilibrio su mio padre che ha avuto un risultato straordinario ma vi parlerò di questo più avanti uno dei problemi e degli ostacoli più grandi dei facilitatori del riequilibrio energetico potrebbe essere uno dei seguenti casi se una persona empatica sensibile alle energie e hai paura di assorbire i pesi e le energie negative degli altri durante le sessioni di riequilibrio energetico oppure hai delle doti naturali senti l'energia nelle mani come il prana ma non sai come praticare la pranoterapia oppure quando devi proporre un metodo di riequilibrio energetico non sai che prezzo far pagare hai paura di chiedere un compenso per le sessioni date offerte oppure ti viene difficile far capire alle persone che alcuni trattamenti funzionano benissimo anche con la distanza e che non è necessario farlo in presenza ancora ti viene difficile spiegare i nuovi metodi di riequilibrio energetico alle persone con cui vieni in contatto non sei sicura di sapere abbastanza non riesci ad esprimerti e senti che sicuramente ti mancano le basi e senti che ti serve un coach per l'insegnamento oppure senti che forse hai bisogno di guarire prima te stessa così dopo potrai aiutare gli altri hai delle resistenze al meritare e all'essere degna di ricevere abbondanza senti ostacoli nel ricevere l'abbondanza non sei sicuro sicuro che anche tu puoi sentire l'energia nelle mani e che puoi trasmetterla alle altre persone oppure non sei sicuro sicuro che le persone possono ricevere un reale beneficio dal riequilibrio energetico se ti stai ponendo anche solo una di queste domande ebbene sei nel posto giusto vediamo cosa andremo a vedere oggi l'elemento numero uno in assoluto più importante che riguarda il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce con la protezione dell'arcangelo michele che può portare vere trasformazioni in tutti i livelli fisico mentale emozionale spirituale i cinque errori più comuni commessi dai facilitatori del riequilibrio energetico che una volta risolti grazie al cambiamento del tuo mindset ti consentiranno di smettere di sentirti in colpa ed iniziare finalmente a sentirti degno degna e meritevole di ricevere abbondanza infinita ancora come diventare un canale pulito attraverso la più potente tecnica di purificazione giornaliera di chakra per radicare la tua energia fino al centro della madre terra consentendoti di sentirti centrata radicata e in equilibrio ancora i quattro segreti sconosciuti al 97 per cento dei facilitatori del riequilibrio energetico empatici o sensibili alle energie che una volta applicati ti permetteranno di accedere alle frequenze di luce più elevate casi studio come tutti i miei studenti e le studentesse nei miei seminari e nei miei corsi online hanno avuto accesso alle nuove frequenze di luce facilmente ricevendo vere e proprie trasformazioni e ritrovando maggiore equilibrio abbiamo ancora dei bonus una sorpresa speciale gratuita che rivelerò alla fine di questa presentazione del valore di ben 600 euro e molto molto di più sei pronto sei pronta perché dovresti prestare attenzione a questa presentazione ti parlo un po di me nel 2009 ho iniziato a sviluppare le mie capacità di sentire l'energia nelle mani e di percepire le energie sottili delle persone degli ambienti intorno a me questo è accaduto dopo un'esperienza di una gitta alle tombe dei giganti ho iniziato veramente a sentire l'energia degli ambienti l'energia delle persone le energie anche invisibili agli occhi ordinari per così dire ai sensi ordinari e questo ha creato in me una sensibilità superiore che mi consente di aiutare le altre persone ma che in quel momento era veramente un dono più grande di me perché non riuscivo a gestirlo perché non sapevo come proteggermi fondamentalmente a partire da marzo del 2010 ho studiato il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce con eric pearl e ho frequentato nove dei suoi seminari dal vivo in italia e in europa nel 2012 ho lavorato nel team della the reconnection come mentore in training ed insegnante assistente dopo soli tre mesi dal mio primo seminario con le nuove frequenze di luce ho facilitato il riequilibrio energetico su mio padre che si è ripreso subito dopo aver avuto un ischemia sembra incredibile però è successo veramente ricordo che mi trovavo ad alghero mia madre mi chiamò disperata dicendomi che mio padre aveva avuto un ischemia la prima cosa che feci è stata quella di prendere una foto e di facilitare l'equilibrio energetico con la foto dopo una preghiera sincera rivolta a dio agli angeli all'arcangelo michele senti una voce interiore che mi disse che sarebbe andato tutto bene pensate che ho dovuto guidare dal ghero fino ad ozieri è un paese che si trova 80 chilometri dalla città di alghero dove abitavo ho sentito una pace che mi ha accompagnato in tutto il viaggio e quando sono arrivata all'ospedale mio padre non era ancora disteso sul letto ma su una brandina in questa brandina si trovava al centro della stanza tutti i miei parenti erano lì disperati io sono arrivata con una pace quasi non spiegabile razionalmente ma ho voluto fidarmi di questo mio sentire mi sono seduta vicino a mio padre ho preso la sua mano tenuto la sua mano e ho trasmesso le frequenze senza dare all'occhio ma ho trasmesso le nuove frequenze di luce e praticamente dopo pochi minuti mio padre è stato sistemato sul lettino ha iniziato a muovere la mano destra il braccio destro la gamba destra e pensate che i medici stavano già preparando mia mamma dicendole che ci sarebbe voluto almeno un anno di fisioterapia per poter riprendere i movimenti per poter riprendere la parola e così via e invece dopo una settimana mio padre era fuori dall'ospedale diciamo che questa esperienza chiamiamo chiamiamolo caso in realtà il caso non esiste però questa esperienza ha completamente cambiato la mia vita il mio modo di percepire la realtà e praticamente ho deciso di dedicarmi completamente allo studio delle nuove frequenze di luce ma non solo anche approfondito il tema degli angeli ho studiato con i più grandi esperti di angeli in quel periodo era molto diciamo era molto molto conosciuta ad or in virtù e ho partecipato a tre dei suoi seminari il primo seminario è stato a riccione nel 2012 il secondo a londra nel 2014 il terzo a maui nel 2016 diventavo sempre più sensibile alle energie e ho dovuto interrompere la mia pratica come facilitati come facilitatrice scusate del riequilibrio energetico perché perché assorbivo il peso energetico delle altre persone quindi cosa è successo che a partire dal 2013 ho trascorso tre anni in preghiera e meditazione con l'arcangelo michele che mi ha trasmesso degli insegnamenti fondamentali tra cui l'importanza della protezione energetica ma non solo della purificazione della liberazione e del radicamento sotto consiglio dell'arcangelo michele ho creato così un nuovo modo di lavorare un lavoro tutto mio un lavoro personalizzato a questa mia nuova sensibilità per così dire consentendomi così di aiutare le altre persone ok senza assorbirne i pesi energetici e questo è stato grazie alla protezione psichica con l'arcangelo michele negli ultimi sette anni ho lavorato con più di 800 persone tra sessioni private seminari in presenza e nei corsi online sempre dal vivo ma online vorrei presentare ricordiamoci che tutti possono accedere facilmente a queste nuove frequenze di luce vediamo alcune delle numerose testimonianze elisabetta biondelli maestra di altre discipline olistiche è rimasta entusiasta del seminario dal vivo in presenza di quattro giorni ha sentito subito la spinta interiore di partecipare ha sentito una grande gioia interiore ha percepito fin da subito la potenza delle nuove frequenze di luce e ha sentito dentro un grande amore nella connessione al sé superiore ha ricevuto una vera e propria riprogrammazione e riallineamento ha ricevuto moltissimi messaggi durante le sessioni di riequilibrio energetico e ha sentito la forte protezione dell'arcangelo michele tanto benessere e pace loretta agresti ha partecipato al seminario dal vivo in presenza di quattro giorni considera questa esperienza come unica nel suo genere ha provato un'emozione fortissima quando ha sentito le nuove frequenze molto chiaramente nelle sue mani durante il seminario con le nuove frequenze di luce ha sentito una forte connessione d'amore puro con le altre persone e reputa questo lavoro luminoso e potente ha percepito chiaramente la forte protezione dell'arcangelo michele si è sentita guidata in questa bellissima esperienza sogna di utilizzare questo strumento per aiutare le altre persone e farlo diventare il suo lavoro daniela zambelli già praticava altre tecniche di riequilibrio energetico grazie a questo lavoro ha riscontrato un grande potenziamento dell'energia che non si aspettava rimanendone molto colpita ha ricevuto maggiore chiarezza e più allineamento cambiando la propria prospettiva vediamo ancora abbiamo gina angela guerra angela ha partecipato in precedenza al percorso di coaching online che considera potentissimo diciamo lei ha dato un livello 8 ok mentre invece per quanto riguarda il seminario dal vivo in presenza di quattro giorni parla di un livello esponenziale per lei è stata un'esperienza molto forte ha preso maggiore consapevolezza e riscoperto i propri talenti e capacità sente nel suo cuore che può fare del bene attraverso le nuove frequenze di luce ha ricevuto intuizioni saggezza e fiducia ha sentito un grande beneficio dal lavoro energetico ricevuto lei sente questo percorso già suo e dopo il seminario di connessione al sé superiore ha sentito aumentare la sua fede e fiducia nei confronti della vita e del futuro intelisano ritta grazia ha partecipato al seminario di quattro giorni questo percorso le ha permesso di capire qual è il suo scopo nella vita parla dell'importanza di essere dei canali puliti e della sua chiamata al riallineamento all'amore il seminario di connessione al sé superiore le ha permesso di aumentare velocemente la sua vibrazione diciamo che ha iniziato il seminario che era un po giù per una serie di situazioni personali mentre invece durante il seminario la sua energia è cambiata completamente ha iniziato a risalire a sentirsi nel cuore sentirsi nell'amore e sente nel suo cuore di volersi dedicare ad aiutare gli altri attraverso questo lavoro naturalmente vorrei dirvi che queste testimonianze le potete trovare in formato video e audio quindi con la voce reale delle persone che stanno portando queste testimonianze nel mio canale youtube connessioni angeliche la versione integrale di ogni singola testimonianza vediamo i cinque errori del facilitatore del riequilibrio energetico errore numero uno non purificarsi prima di facilitare una sessione di riequilibrio energetico diciamo che imparare la purificazione energetica prima di ogni sessione di riequilibrio energetico è fondamentale per sentirsi centrati e radicati e come fare una doccia spirituale questo ci consente di essere nel nostro pieno potere e questo ci consente di trasmettere le frequenze di luce più elevate bisogna essere dei canali puliti per facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone è una responsabilità errore numero due non usare la protezione psichica prima di facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone molti facilitatori del riequilibrio energetico non utilizzano alcuna protezione o utilizzano delle protezioni che non sono complete ok e questo cosa fa cosa cosa succede succede che l'operatore rimane scoperto e rischia di assorbire i pesi energetici dalle altre persone pensate che quando non mi proteggevo durante le sessioni di riequilibrio energetico le persone che trattavo stavano bene io prendevo i loro pesi e questo mi faceva stare male mi scaricava energeticamente e poi ci volevano due tre giorni di grande lavoro di preghiera di meditazione per recuperare le forze per così dire ok errore numero tre sentirsi in colpa quando le trasformazioni non avvengono come vorremmo noi e qui subentra l'ego come facilitatore del riequilibrio energetico sei un intermediario per queste meravigliose frequenze la trasformazione arriva nella misura in cui l'anima del ricevente sceglie di riceverla come facilitatori noi possiamo solo osservare ad accettare ciò che arriva sapendo che per il massimo bene di tutte le persone coinvolte la trasformazione non dipende dalla tua volontà l'ego deve essere messo fuori ok poi andremo a vederlo nello specifico però ci sono due forme di ego fondamentalmente c'è un ego superiore un ego inferiore l'ego superiore si prende la persona si prende tutti i meriti quando arrivano delle trasformazioni meravigliose straordinarie ed è sbagliato anche questo perché non sei tu e l'intelligenza dell'amore universale che facilita il riequilibrio energetico lo stesso vale quando noi quando abbiamo il cosiddetto ego inferior quando non ci sentiamo all'altezza quando magari una persona non riceve la trasformazione che si aspetta allora noi entriamo nel senso di colpa ci sentiamo inadeguati ci sentiamo non meritevoli e non degni non è così ripeto è sempre l'amore divino è sempre l'anima del ricevente che sceglie cosa è giusto per lui cosa è giusto per lei e per il suo massimo bene errore numero 4 non riuscire a chiedere un compenso per le sessioni di riequilibrio energetico o farle pagare a basso costo molti operatori della luce e facilitatori del riequilibrio energetico devono sciogliere i voti di povertà e cambiare i propri sistemi di credenze che gli stanno impedendo di ricevere l'abbondanza infinita che meritano e di cui sono degni per diritto di nascita molti operatori facilitatori del riequilibrio energetico hanno difficoltà a chiedere dei soldi quando quando offrono delle sessioni di riequilibrio energetico ricordiamoci che c'è il tempo che noi dedichiamo nel facilitare queste sessioni c'è tanto lavoro spirituale c'è tanta preghiera c'è tanta purificazione c'è tanto lavoro per per poter essere dei canali puliti per poter essere in grado di trasmettere il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze e quindi è giusto ricevere un compenso naturalmente quel compenso nascerà dal tuo cuore sarà la cosa giusta per entrambe le parti deve essere in perfetto equilibrio tra il dare e il ricevere ci vuole un momento per dare un momento per ricevere equilibrare queste due forze il divino maschile rappresenta il dare il divino femminile rappresenta il ricevere con queste due forze vanno portate in perfetto equilibrio ed armonia è lì che l'operatore il facilitatore della guarigione si sente ha pagato si sente meritevole si sente degno di ricevere l'abbondanza che merita e di cui è degno appunto per diritto di nascita naturalmente bisogna sbloccare le credenze limitanti eliminare i blocchi le paure e anche i sistemi di credenze che ci hanno un po imposto la società o comunque che possono anche derivare dai nostri antenati diciamo che queste credenze vanno vanno eliminate per poi essere sostituite con con dei valori potenzianti per così dire ok errore numero 5 molti operatori di luce facilitatori del riequilibrio energetico hanno delle forti resistenze nell'investire nella propria formazione ci sono molte persone molti persone nell'olismo che hanno difficoltà ad investire dei soldi nella propria formazione sempre perché ci sono delle credenze limitanti legate al denaro il denaro è una forma di energia di scambio non ha nessuna caratteristica di bene o male è semplicemente energia e sta a noi dare valore a quello che noi stiamo facendo se noi vogliamo ricevere una buona formazione ricevere degli insegnamenti validi alle volte dobbiamo essere anche disposti ad investire dei soldi per formarci per poter studiare con persone che hanno tanta esperienza molto più della nostra e che hanno qualcosa da trasmetterci che poi sarà necessario e fondamentale per il lavoro che andremo a fare noi stessi nel nostro percorso di facilitatori di coach spirituali e di maestri spirituali investire su noi stessi velocizza il nostro percorso evolutivo personalmente ho deciso di investire su me stessa nel 2009 quando ho deciso di partecipare al mio primo seminario di riequilibrio energetico dove ho imparato a sentire per la prima volta le nuove frequenze di luce io benedico ogni giorno gli insegnamenti che ho ricevuto dai miei maestri tutto quello che ho ricevuto da questo seminario è andato oltre le mie aspettative vi ricordate vi ho detto poco prima che a soli tre mesi dal seminario ho facilitato il riequilibrio energetico su mio padre che ha avuto dei risultati straordinari grazie ai suoi risultati ho finalmente compreso qual è lo scopo divino della mia anima ecco i quattro segreti che il 97 per cento dei facilitatori del riequilibrio energetico non conoscono ragazzi queste sono le mie scoperte i miei studi il mio allineamento con l'arcangelo michele le mie preghiere tutto ciò che è che è arrivato attraverso gli insegnamenti di questo angelo meraviglioso vediamo il segreto numero uno allora il segreto numero uno anche le persone empatiche o più sensibili alle energie possono facilitare questo lavoro con le nuove frequenze di luce con la protezione sacra dell'arcangelo michele abbiamo parlato di protezione psichica io non sapevo come fare per proteggermi è stato l'arcangelo michele che è arrivato da me che mi ha mostrato come lui possa intervenire energeticamente nel creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità e mi ha dettato delle preghiere delle preghiere che se affermate o ascoltate ogni giorno veramente ci aiutano a creare questo scudo di protezione invincibile e impenetrabile dall'oscurità diciamo che questa è una traccia della preghiera che io faccio giornalmente bisogna chiedere all'arcangelo michele di aspirare tutte le energie egoiche di paura che potresti aver assorbito dagli ambienti e dalle altre persone bisogna chiedere che siano tagliate tutte le corde tra te e il ricevente che siano elevate le energie vibrazioni e frequenze e che siano sintonizzate nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato che sia creato uno scudo di protezione impenetrabile dall'oscurità e dalle energie più dense così dentro e così fuori naturalmente questa è una traccia io chiedo anche che sia radicata l'energia che siano purificate le nostre intenzioni parole d'azione insomma questa preghiera di protezione ti consente veramente di lavorare con l'arcangelo michele di di creare un vero e proprio scudo di protezione naturalmente nei miei percorsi di coaching avanzato verranno date in dotazione tutte le preghiere da utilizzare giornalmente e prima di ogni sessione di riequilibrio energetico segreto numero due meditazione per purificare l'energia in tutto il campo energetico e nei chakra per radicare le energie fino al centro della madre terra anche qua questa è una struttura della meditazione che io utilizzo per purificare i chakra e per radicare l'energia l'energia a partire dal dodicesimo chakra l'energia del sé superiore discende sempre più giù sempre più giù fino ad arrivare al settimo chakra della corona va a purificare il terzo occhio eliminare tutte le immagini distorte della realtà va ad arrivare fino al chakra della gola affinché vi sia una comunicazione una comunicazione una comunicazione dal cuore una comunicazione animica una comunicazione dove io posso esprimere la mia verità vanno purificate il chakra della gola scusate della del cuore quindi l'apertura del cuore il perdono lasciare andare il risentimento il dolore la sofferenza ecco che poi tutti i chakra vengono purificati si scende fino al terzo chakra al secondo chakra al primo chakra fino a radicare l'energia fino al centro della madre terra ecco che questa meditazione di purificazione quando viene affermata giornalmente o ascoltata giornalmente veramente arriva una vera e propria trasformazione nel campo energetico la persona si sente molto più radicata la terra più centrata più lucida connessa con la propria anima e con la propria verità naturalmente nei miei percorsi di coaching verranno date in dotazione dotazione tutte le preghiere da utilizzare giornalmente e prima di ogni sessione andiamo a vedere il segreto numero 3 questo è un segreto potentissimo processo di liberazione per sciogliere i voti e liberarsi da tutto ciò che ho posto all'amore allora vorrei precisare che queste preghiere le potete trovare nel mio sito connessione angeliche punto com vedete qua c'è il nome del mio canale youtube connessioni angeliche ci sono tutte le preghiere su youtube le trovate in formato audio e invece sul mio sito le trovate sia in formato audio che in formato pdf questo vi dà la possibilità veramente di lavorare su voi stessi il processo di liberazione la preghiera più potente che io abbia mai scritto è una preghiera di liberazione nel vero senso della parola ci libera dai patti dagli accordi dalle promesse dai voti fatti in questa vita nelle altre vite che stanno limitando la nostra vita sulla terra la nostra massima affermazione sulla terra stanno impedendoci di compiere il nostro scopo divino per il quale siamo nati ci stanno magari causando delle interferenze magari c'è della negatività nella nostra vita magari ci sono delle energie troppo dense che non ci consentono di stare bene magari abbiamo avuto dei veri e propri attacchi psichici diciamo che questo processo liberazione è una preghiera veramente veramente completa che se fatta tutti i giorni può liberare il nostro campo energetico la nostra vita la nostra anima l'intero nostro essere in questa vita nelle altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio abbiamo il segreto numero 4 allora il metodo di logo ceiling per cambiare il proprio mindset legato all'energia monetaria altri blocchi e paure allora logo ceiling nasce dalla logo sintesi di william lammers io personalmente utilizzavo la logo sintesi per liberarmi da dei blocchi delle paure e così via e mentre utilizzavo queste tre frasi potentissime di liberazione l'arcangelo michele mi ha fatto canalizzare delle frasi più complete per questo è nato il lavoro di logos healing ossia il potere della parola che guarisce guarisce da cosa libera dai blocchi libera dalle paure libera i sistemi di credenze limitanti libera dai traumi del passato libera dai pensieri negativi diciamo che ci aiuta veramente ad allinearci ad allinearci ad allinearci al nostro pieno potere alla nostra anima la nostra gioia del cuore possiamo utilizzarlo come dico qui nel video per sbloccare l'energia monetaria perché possiamo eliminare tutti i sistemi di credenze limitanti che abbiamo visto prima legati ai soldi ma possiamo veramente lavorare in tutti gli aspetti della nostra vita ok logo ceiling ripeto una modalità molto potente che in grado di eliminare le credenze limitanti molto velocemente per cambiare il proprio mindset e il proprio rapporto tra i soldi e la spiritualità tra il dare e il ricevere nei miei percorsi di coaching insegno questa modalità per aiutare i miei studenti a cambiare il proprio rapporto con i soldi libertà finanziaria quello che ti ho mostrato fino ad ora è l'intero processo ora potresti chiederti posso facilitare il riequilibrio energetico anche se mi trovo lontano dalla persona solo le persone sensibili si devono proteggere dove posso imparare tutte queste cose posso facilitare il riequilibrio energetico anche se la persona interessata non lo sa io non sono religioso l'arcangelo michele mi protegge lo stesso hai due opzioni prendere queste informazioni ed applicarle da solo o da sola oppure lavorare a stretto contatto con me in in presenza nel seminario di due giorni oppure di quattro giorni il seminario di due giorni riguarda il riequilibrio energetico il seminario di quattro giorni riguarda il riequilibrio energetico più la connessione al sé superiore vediamo nello specifico ecco cosa faremo insieme nel seminario di due giorni ossia sabato e domenica imparerai ad accedere alle nuove frequenze di luce in maniera semplice naturale fin dalla prima sessione imparerai a giocare ad interagire con le frequenze iniziando a riconoscerle e facendole diventare parte di te faciliterà il riequilibrio energetico sulle altre persone riceverai il riequilibrio energetico dalle altre persone imparerai il riequilibrio energetico con gli occhi attraverso lo sguardo imparerai il riequilibrio energetico con l'utilizzo di una foto imparerai il riequilibrio energetico col tocco imparerai il riequilibrio energetico a distanza imparerai l'autotrattamento imparerai a facilitare il riequilibrio energetico a più persone contemporaneamente imparerai il riequilibrio energetico di liberazione che è veramente un lavoro potentissimo imparerai praticamente tutto sulla protezione e molto altro ancora se invece deciderai di partecipare ai quattro giorni ossia sabato e domenica imparerai tutto sul riequilibrio energetico come abbiamo già visto prima in più il lunedì e il martedì imparerai a facilitare la connessione al sé superiore ok sulle altre persone in che cosa consiste la connessione al sé superiore la connessione al sé superiore consiste nella riattivazione dei meridiani e delle linee assiatonali di tutto il corpo della testa ma anche del corpo sia le linee verticali diagonali zigzag oblique eccetera la riattivazione dei meridiani del corpo ok e in più la riattivazione dei dodici chakras questa tecnica è una tecnica potentissima la connessione al sé superiore aiuta a facilitare la connessione con la propria anima col proprio vero se questo lavoro energetico porta una vera e propria accelerazione nel processo di riequilibrio e nel processo di evoluzione un vero e proprio riallineamento dell'anima è un lavoro molto potente e consiglio vivamente i quattro giorni a tutti coloro che vogliono veramente fare un lavoro completo con le nuove frequenze di luce ok prima di parlarti dell'investimento bonus gratuiti se parteciperai al seminario di due giorni avrai due bonus in regalo bonus numero uno protezione psichica sessioni di coaching aggiuntive dove verrà spiegato tutto sulla protezione psichica sulla purificazione sulla liberazione sul radicamento e verrà dato in dotazione tutto il materiale necessario anche quando finirà il seminario valore euro 500 vediamo le lezioni che faremo insieme perché proteggersi chi è l'arcangelo michele cos'è la protezione psichica giornaliera cos'è la purificazione cos'è il radicamento come elevare le proprie frequenze ritornale all'equilibrio essere la guarigione più quattro preghiere di protezione psichica giornaliera e protezione per la casa e per gli ambienti processo di liberazione meditazione di raticamento di pulizia dei chakra in formato pdf ed mp3 offerte in dotazione già pronte per avere il materiale necessario anche quando finirà il seminario vediamo insieme il bonus numero due come diventare un canale pulito lezioni aggiuntive per imparare ad elevare le proprie frequenze ed uscire dall'ego valore 400 euro vediamo le lezioni aggiuntive che faremo insieme lezioni per uscire dall'ego cos'è l'ego ego superior ego inferior accettare quando i risultati non avvengono come vorremmo noi accettare che i risultati non dipendono da noi staccarsi da un particolare risultato il guaritore guarito diventare un canale pulito essere esempio di amore in terra quindi vediamo cosa otterrai nel pacchetto dei due giorni abbiamo il seminario di riequilibrio energetico di due giorni per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce del valore di 888 euro bonus numero uno ossia il primo regalo lezioni aggiuntive sulla protezione psichica liberazione purificazione radicamento più tutto il materiale didattico valore euro 500 bonus numero due lezioni aggiuntive per imparare a diventare un canale pulito valore euro 400 quindi per un valore totale di 1788 euro quindi è un valore molto alto vediamo insieme invece i bonus che riceverai se parteciperai al seminario di quattro giorni avrai ben tre bonus quindi un bonus in più vediamo uno per uno bonus numero uno ripeto abbiamo le sessioni di coaching aggiuntive dove verrà spiegato tutto sulla protezione psichica purificazione liberazione radicamento e verrà dato in dotazione tutto il materiale didattico come abbiamo già visto il valore di 500 euro anche anche qui imparerai tutto sulla protezione purificazione radicamento l'importanza di essere la guarigione verranno date in dotazione tutte le preghiere la preghiera di protezione di purificazione di liberazione di radicamento e tutto il materiale didattico bonus numero due anche qui abbiamo le lezioni aggiuntive per come diventare un canale pulito ok per elevare le proprie frequenze uscire dall'ego valore 400 euro quindi cose leggo superior cose leggo inferior accettare quando i risultati non avvengono come vorremmo accettare che i risultati non dipendono da noi staccarsi da un particolare risultato il guaritore guarito diventare un canale pulito essere esempio di amore intera quindi gli stessi identici bonus che vengono dati se parteciperai al seminario dei due giorni ma in più abbiamo un terzo bonus connessione al sé superiore personale ok ossia la riattivazione dei meridiani delle linee asiatonali del corpo e la riattivazione di chakra in cosa consiste la connessione al sé superiore consiste in due sessioni da mezz'ora ciascuno ok del valore di ben 333 euro riceverai la tua connessione al sé superiore personale durante una delle pause del seminario da un membro del mio team la connessione al sé superiore consiste in due sessioni da mezz'ora ciascuno da fare in due giorni diversi ad esempio sabato e domenica oppure lunedì e martedì nelle pause del seminario quindi cosa ottieni nei quattro giorni ottieni il seminario di riequilibrio energetico per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce il seminario del valore di 888 euro il seminario di connessione al sé superiore del valore di 1000 euro bonus numero 1 lezioni aggiuntive sulla protezione sulla purificazione radicamento e liberazione più tutto il materiale didattico valore 500 euro bonus numero 2 lezioni aggiuntive per diventare un canale pulito valore 400 euro il bonus numero 3 connessione al sé superiore valore 333 euro per un valore totale di 3.121 euro ma quindi quale sarà l'investimento non sarà di 3.000 euro e nemmeno di 2.000 euro quindi hai un'opportunità speciale sia per i due giorni quindi per un valore di 1788 euro che il seminario di riequilibrio energetico più i due bonus per un investimento molto molto più basso oppure l'opportunità speciale partecipare ai quattro giorni se vuoi una formazione totale dove avrai il seminario di riequilibrio energetico sabato e domenica seminario di connessione al sé superiore lunedì e martedì più tutti i bonus che in questo caso anziché due sono tre abbiamo in più la connessione al sé superiore del valore di 333 euro per un totale di 3.121 in realtà l'investimento è molto 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 più basso perché lo faccio due motivazioni principali è la prima volta che lancio questo seminario in presenza così completo con tutti questi bonus sarai seguito seguita direttamente da me mi serve il tuo feedback per perfezionare questo lavoro motivo numero due cerco nuovi casi studio legati a questo nuovo seminario dal vivo in presenza così da mostrare la tua testimonianza legata la tua personale esperienza quindi qual è il prossimo passo manda subito la tua candidatura clicca il pulsante qui sotto l'unica cosa solo 15 posti disponibili motivo numero uno io ed il mio team lavoreremo direttamente con te e ti dedicheremo tanto tempo motivo numero due durante il seminario dal vivo in presenza vogliamo darti il massimo delle attenzioni lavorerai a stretto contatto con me per questi motivi questa opportunità è solo attraverso candidatura motivo numero uno a voglio essere sicura che questa sia la migliore soluzione per te motivo b lavoreremo a stretto contatto e voglio essere sicura che sei una persona seria e che sei in allineamento agli insegnamenti dell'arcangelo cattive notizie dovrai agire in fretta dovrai agire in fretta perché la classe sarà formata da un massimo di 15 studenti ho bisogno dei feedback il prima possibile la super promozione ha una scadenza non esiste garanzia io ed il mio team ti dedicheremo tanto tempo ed attenzioni e quelle non sono rimborsabili sorpresa speciale solo per chi agisce velocemente solo per chi agisce velocemente abbiamo il super bonus per chi si candida per il seminario di due giorni oppure per il seminario di quattro giorni prima della fine di questo training super bonus tre sessioni di riequilibrio energetico a distanza facilitate da me oppure da un membro del mio team prima della data del seminario dal vivo in presenza valore 600 euro quindi sia che tu partecipi al seminario di due giorni sia che tu deciderai di fare la formazione completa il seminario dei quattro giorni avrai comunque il super bonus l'importante che ti candidi prima del tre della fine del training e quindi ora faremo partire il countdown ok ora vediamo una revisione veloce del di cosa imparerai nel seminario di due giorni abbiamo visto il seminario di riequilibrio energetico per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce di un valore di 888 euro abbiamo visto che hai due bonus ossia le lezioni aggiuntive sulla protezione liberazione purifica azione radicamento valore 500 euro e il bonus numero due lezioni aggiuntive per diventare un canale pulito valore 400 euro super bonus tre sessioni di riequilibrio energetico a distanza che io stessa un membro del mio team faciliteremo per te prima del seminario dal vivo in presenza quindi sarà un lavoro fatto a distanza di un valore di ben 600 euro quindi il valore totale del seminario di due giorni più tutti i bonus e il super bonus è di 2388 euro ma l'investimento che farai se deciderai di candidati prima della fine del training è veramente molto 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 più basso quindi manda subito la tua candidatura clicca il pulsante qui sotto oppure chiama al 3 40 9 50 0 8 40 ok se invece sei come me e desideri nel tuo cuore di fare una formazione completa per per lì per il tuo lavoro perché magari sei un operatore olistico per la tua formazione e crescita personale e spirituale allora il consiglio è partecipa al seminario di quattro giorni ossia il weekend sabato e domenica dove imparerai tutto sul riequilibrio energetico di un valore di 888 euro più il seminario di connessione al sé superiore dove praticamente questo seminario sarà il lunedì e il martedì di un valore di mille euro dove imparerai tu a facilitare la connessione al sé superiore sulle altre persone e in più riceverai tre bonus quindi un bonus in più rispetto al seminario di due giorni quindi bonus numero uno lezioni aggiuntive sulla protezione purificazione radicamento e liberazione per un valore di 500 euro con tutto il materiale didattico compreso bonus numero due lezioni aggiuntive per imparare a diventare un canale pulito valore 400 euro bonus numero tre riceverai la tua connessione al sé superiore personale che io stessa o membro del mio team faciliteremo su di te per due giorni consecutivi o il sabato o la domenica o lunedì o il martedì durante le pause del seminario valore 333 euro in più il super bonus tre sessioni di riequilibrio energetico che noi faciliteremo a distanza o io o un membro del mio team del valore di ben 600 euro quindi questo pacchetto di quattro giorni con tutti i bonus e il super bonus ha un valore di 3721 euro ti posso garantire che l'investimento sarà molto più basso quindi manda subito la tua candidatura se il tuo cuore ti sta guidando in questa direzione ascoltalo clicca il pulsante qui sotto candidati dovrai rispondere a un questionario con alcune domande e fissare un appuntamento sul calendario con me oppure se diciamo hai fretta non vedi l'ora di ricevere maggiori informazioni sui costi o farmi altre domande chiamami al 340 950 08 40 o meglio scrivimi su whatsapp e così fisseremo insieme il nostro appuntamento telefonico ok prima di finire il training vorrei rispondere ad alcune domande diciamo che posso garantire un particolare risultato se alle persone che decidono di ricevere il riequilibrio energetico da parte mia la risposta è no noi non possiamo garantire alcun risultato ok in quanto queste frequenze sono una forza intelligente sanno cosa devono fare è sempre l'anima del ricevente che sceglie cose giusto per lei in quel dato momento quindi noi possiamo solo spiegare alle persone che questo lavoro porta equilibrio lo può portare in tantissimi livelli fisico mentale emozionale spirituale assolutamente ma non sappiamo mai cosa avviene ok avviene il massimo bene per quella persona in quel dato momento che differenza c'è tra le nuove frequenze di luce e le altre modalità di riequilibrio energetico allora le nuove frequenze di luce sono un nuovo livello vibratorio a cui oggi è possibile accedere grazie al cambiamento vibrazionale del pianeta terra la terra sta cambiando frequenza quindi oggi è possibile accedere a questo nuovo livello vibratorio queste nuove frequenze di luce comprendono tutte le energie fino ad oggi conosciute a livello benefico quindi il reiki il prani killing il prana tutte le energie benefiche fino ad oggi conosciute ma si espandono in un livello molto più comprensivo chiamato luce ed informazione ok l'energia viene canalizzata come nel reiki o come le altre modalità di riequilibrio energetico allora l'energia viene canalizzata e catalizzata le ricevi come un'antenna le ricevi nelle mani e le trasmetti al ricevente quindi è una modalità molto diversa rispetto a quelle che già conosci si seguono delle specifiche posizioni mentre si trasmettono le frequenze la risposta è no questo lavoro è un lavoro completamente libero praticamente tu lavori sul campo energetico della persona in maniera libera facendo dei movimenti circolari con le tue mani queste cose poi le vedremo insieme nel percorso che andremo a fare insieme è un lavoro completamente libero non si seguono tecniche non si seguono posizioni a differenza del seminario di connessione al sé superiore dove andremo a seguire nello specifico delle posizioni molto chiare e precise per andare a centrare i punti dei meridiani delle linee assiatonali dei chakra e così via quella però è la connessione al sé superiore una tecnica molto antica arriva dall'antico egitto ma è stata da me completata e perfezionata grazie all'arcangelo michele che mi ha consigliato di riattivare tutti i chakra a partire dal dodicesimo chakra fino al primo chakra per radicare l'energia fino al centro della madre terra e poi in questo interscambio di luce di amore tra il cielo e la terra e tra la terra e il cielo quindi è veramente una tecnica potentissima ok questo lavoro ti porterà ad interagire con le altre persone in una maniera protetta in una maniera sicura in quanto c'è la protezione dell'arcangelo michele questo lavoro è un lavoro sicuro e protetto in più ci sarà una preparazione energetica prima del seminario in quanto vi darò in dotazione tutte le preghiere tutte le meditazioni da ascoltare o da recitare prima del seminario proprio per prepararvi per questa esperienza meravigliosa bene io spero di essere stata esaustiva mi raccomando contattami senza impegno per conoscere il costo ti chiedo di contattarmi personalmente sarò io stessa a darti tutte le informazioni e a rispondere a tutte le tue domande io ti saluto tanta luce tanta benedizione a te e ci vediamo dall'altra parte a presto grazie a tutti